Le tv della serie LS 5600 DLG sono televisori full HD con retroilluminazione LED. Il design è studiato sin nei minimi particolari, la cornice dello schermo è ridotta al minimo per aumentare al massimo il comfort visivo e regalare un effetto stile cinema. Il pannello LED regala immagini in vera alta definizione straordinariamente nitide con un'incredibile profondità e un'ottima resa dei colori. Il modello 42 LS 5600 ha un display con una diagonale di 42 pollici che si estende per 979 mm in larghezza e 593 mm in altezza. Lo spessore dello schermo invece è solo 35 mm. Sulla parte posteriore troviamo tutto il comparto dei collegamenti. Abbiamo innanzitutto un ingresso di tipo USB, l'ingresso Common Interface, un ingresso HDMI laterale, un'uscita audio per le cuffie, il connettore per l'antenna, l'ingresso component, una presa di tipo SCART, due ingressi HDMI, un'uscita audio digitale, un ingresso audio, un ingresso VGA e infine l'ingresso per il cavo di rete. I televisori LG della serie LS 5600 regalano immagini dalla qualità elevatissima. Sono dotati della tecnologia MC100 per garantire questo livello di dettaglio anche nelle scene movimentate, evitando la presenza del fastidioso effetto scia. Sono anche televisori attenti all'impatto ambientale. Le funzioni implementate infatti permettono di regolare la retroilluminazione dello schermo in modo ottimale o addirittura azzerare i consumi entrando in modalità standby mode 0. I televisori LG della serie LS 5600 sono davvero potenti e versatili. Televisori ottimi sia dal punto di vista delle funzionalità offerte ma anche per ciò che riguarda il design.